Sabato 19 dicembre, ultima uscita prima del Giro di Boa per la Fuzzal San Giovanese che si è trovata anche in un giallo particolare, colore quanto mai indicato questo perché al centro della vicenda c'erano proprio dei cartellini Il comunicato della divisione nazionale Calcio 5 infatti aveva decretato una giornata di squalifica per l'espulsione di uno dei due fratelli spagnoli Fernandez Vargas contro il Coiano sbagliando però l'indicazione del nome attribuendola ad Antonio anziché Pablo Questo in pratica avrebbe privato la squadra di entrambi i fratelli far giocare chiunque di loro avrebbe portato certamente al reclamo avversario Oggi l'errata corrige in apposito comunicato ma per Genova in casa del fanalino di coda Città Giardino qualche problema di formazione resta, anche Ermini infatti out per squalifica Festa si è allenato pochissimo, l'influenza nei giorni scorsi ha anche rallentato le sessioni di preparazione Insomma per la gara che in caso di vittoria sancirebbe già al miglior risultato della storia MB a livello di punti per la San Giovannese e che darebbe con ogni probabilità anche la salvezza in un girone di anticipo, l'emergenza è elevata e nonostante l'imbarcata di 10 gol subiti dal Grosseto il Città Giardino in stagione in casa ha vinto con Coiano e pareggiato contro Pistoia e Poggi Bonzi